Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, oggi c'è una notizia del giorno, potremmo definirla così, è stata una delle notizie più attese dell'ultimo mese dai ferraresi, soprattutto tifosi della SPAL perché alla fine è arrivata a metà giornata, lo stadio Mazza è stato dissequestrato e sono stati tolti i sigilli della procura e della guardia di finanza, sentiremo fra poco cosa dovrebbe accadere a breve ma in questa edizione del telegiornale ci sarà anche la cronaca con un'aggressione nei confronti dei carabinieri fuori dall'ipercoppo il castello e poi però andremo anche a Cento dove la città del Guercino si appresta ad accogliere il boom di iscritti della prossimo anno accademico all'Università di Ferrara, sentiremo come si sta preparando Cento e sta per iniziare poi la settimana di Ferragosto, in città sono tante le iniziative in programma ma dovremo ancora parlare di SPAL perché i biancozzurri hanno perso per infortunio uno dei suoi protagonisti e starà fuori, parliamo di Fares, starà fuori fino all'inizio del prossimo anno ma partiamo appunto dalla notizia del giorno, lo stadio Mazza come detto è stato dissequestrato dopo un mese, SPAL che potrà giocare sia in Coppa Italia domenica prossima sia alla prima di campionato con l'Atalanta fra due domeniche e questa è la notizia appunto che tanti attendevano, grande però l'amarezza da parte della proprietà biancozzurra per questa vicenda ma andiamo a ripercorrere questa giornata. La fomata bianca è arrivata, il Paolo Mazza torna ai legittimi proprietari, la SPAL i suoi tifosi e ovviamente il comune di Ferrara. La procura della Repubblica ha infatti firmato l'atto di dissequestra dell'impianto di Corso Piave dove la squadra di Semplici potrà tornare a disputare le sue partite, certamente la prima di campionato, quella del 25 agosto con l'Atalanta e anche la gara di Coppa in programma una settimana prima con la vincente del confronto tra Pordenone e Ferralpi Salò che si giocheranno entrambe a Ferrara anche se dovranno essere effettuati alcuni lavori che saranno specificati entro il 15 di ottobre nella perizia definitiva che sarà consegnata entro quella data dal professor Pellegrino. Si conclude così positivamente come era parso prevedibile fino all'inizio una vicenda che comunque ha tenuto con il fiato sospeso migliaia di ferraresi dal lunedì 8 luglio, giorno in cui agenti della Guardia di Finanza di Ferrara si sono presentati allo stadio per apporre i sigilli e per tutte le fasi successive fino ad oggi. Adesso aspettiamo la relazione tecnica del CTU, sono tanti i giorni a disposizione per il deposito con i nostri tecnici, leggeremo attentamente il documento, lo valuteremo, predisporremo un progetto sulla base delle prescrizioni della stessa relazione e faremo gli interventi ma che questo non impedisce già adesso la fruizione dello stadio. Posso anticipare che proprio pochi minuti fa il sindaco ha parlato con il prefetto e convocheremo la commissione preposta all'inizio della settimana prossima per consentire già da domenica lo svolgimento della partita. Da domenica 18 lo svolgimento della partita. Dai nostri primi sei anni di dirigenza e presidenza della SPAL penso sia stato il periodo più brutto è successa una cosa che secondo me non doveva assolutamente succedere il nostro stadio era sicuro prima come è sicuro ancora di più adesso mi dispiace cerco anche di limitarmi in quelle che sono mie personali considerazioni però credetemi i danni arrecati alla nostra società sono di un'intensità che non potete immaginare sia a livello di immagine che a livelli economici e penso che questa società non se lo meritasse proprio per il suo modo di operare abbiamo constatato che il nostro stadio è sicuro probabilmente uno dei più sicuri d'Italia dopo tutte le prove che sono state eseguite in questo mese. Quindi capisco dal punto di vista emotivo anche la rabbia associata al danno economico che sappiamo ma pensiamo anche al danno di immagine della squadra ma anche della città perché per queste settimane si è parlato comunque a livello nazionale di questo stadio e quindi c'è stato un danno diciamo complessivo diciamo non solo economico non solo così emotivo ma un danno forte per la città. E questa rabbia ce la può passare solo la nostra gente, i nostri tifosi. Mi rivolgo a loro, devono essere loro starci vicino, devono essere loro a ritornare insieme a noi a creare quella sinergia particolare perché questo anno è nato male, molto male e quando gli anni nascono male dopo diventa tutto più difficile. Quindi rivolgo a tutti quanti voi ragazzi, i nostri tifosi, dobbiamo rincompattare il gruppo dobbiamo ripartire con tanto entusiasmo. Lunedì sarà riaperta la campagna abbonamenti che la società della famiglia Colombarini era stata costretta a sospendere appena appresa l'impossibilità di usufruire dello stadio. Si dovrà inoltre individuare a chi spetterà l'onere di risarcire le spese sostenute per teste perizie il cui ammontare risulta essere di alcune centinaia di migliaia di euro. Archiviata questa parte si aprirà una lunga vicenda giudiziaria che prevedibilmente vedrà le parti rese ad iniziare la comune SPAL richiedere il risarcimento dei danni subiti. Cronaca adesso parapiglia tra un uomo di 32 anni di origine romena con precedenti con la giustizia i carabinieri ieri verso sera vicino all'entrata del centro commerciale il castello di Ferrara tanto che i militari avrebbero utilizzato lo spray al peperoncino per fermare l'uomo che secondo il racconto dei carabinieri avrebbe preso a pugni i militari e li avrebbe anche spintonati essendo secondo gli uomini dell'arma in stato di forte ebrezza alcolica. Tutto questo sarebbe nato per eludere il controllo da parte dei carabinieri il 32enne è stato arrestato e portato in carcere a Ferrara in attesa del giudizio direttissimo. E adesso cambiamo totalmente argomento a poco più di due anni dall'introduzione delle calotte a Ferrara e con l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale sarebbero non poche le difficoltà riscontrate da famiglie e aziende e servirebbe un aiuto anche per soprattutto per i privati cittadini a chiederlo sono i sindacati che vorrebbero incontrare il neossessore all'ambiente di Ferrara Balboni. Sconti e riduzioni della tariffa per coloro che hanno sforato il numero dei conferimenti di rifiuti indifferenziati previsti dalla propria tipologia di contratto. Questo uno dei temi principali al centro del probabile e futuro incontro tra l'assessore all'ambiente del comune di Ferrara Alessandro Balboni e le rappresentanze sindacali estensi. Difficoltà che vedono coinvolte non solo le imprese ma anche molte famiglie e cittadini, riportano CGL e Cislewil. L'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale avrebbe provocato difficoltà quindi, secondo i sindacati, che chiedono uno strumento economico a sostegno delle famiglie oltre che per le imprese. La disponibilità dimostrata dall'assessore nel riconoscere la necessità di intervenire con un supporto economico definito da criteri su quali basare sconti e riduzione della tariffa al momento destinato alle sole imprese, dovrà comprendere anche i cittadini che a loro volta hanno sfratto il numero dei conferimenti previsti dalla propria tipologia di contratto. Per queste ragioni CGL e Cislewil di Ferrara chiederanno un incontro con l'assessore. Intanto, però, come confermato da Balboni, qualcosa si sta muovendo nei confronti delle imprese sul tema dei rifiuti. Il tema della tariffa puntuale e del conferimento dei rifiuti è molto delicato a Ferrara. È stata una decisione presa probabilmente in maniera frettata con una scarsa comunicazione nei confronti delle aziende e dei cittadini. Insomma, sono state diverse le utenze non domestiche e domestiche che hanno lamentato mancanze di tutoraggio o comunque la difficoltà di comunicazione con l'operatore. Ecco, questo contesto ha spesso portato da parte delle utenze un conferimento sbagliato dei propri rifiuti. Molte utenze hanno sforato il numero di conferimenti previsti e per questo motivo è previsto a loro carico il pagamento di un conguaglio. Ecco, come amministrazione, tenendo conto anche di questa difficoltà da parte delle utenze, abbiamo deciso di aprire un dialogo, una trattativa, un tavolo di lavoro con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche per poter valutare insieme a queste un contributo da parte del Comune per rendere meno pesanti questi conguagli. Parliamo di circa 1200 utenze non domestiche le quali da sole collezionano un importo di conguagli pari a circa 900.000 euro. Quindi immaginiamo anche un costo medio molto alto per queste aziende. Per evitare, non dico chiusure, ma un carico eccessivo economico nei loro confronti, vogliamo dare un contributo. L'agricoltura adesso col diretti lancia un altro allarme in questa estate non facile per gli agricoltori. Dopo la cimice asiatica, un altro fragello si starebbe abbattendo sulle pere ferraresi, dice l'Associazione di Coltivatori Diretti. Stiamo parlando dell'alternaria. Servono nuovi strumenti, nuove strategie contro un patogeno che rischia di azzerare la produzione di pere ferraresi, l'alternaria, e quanto è emerso dall'incontro dei frutticoltori di Coltiretti del 5 agosto scorso. Alternaria delle pere al centro del dibattito, conosciuta anche come maculatura bruna del pero, l'alternaria è un fungo parassita che in questi ultimi anni sta attaccando molti fruttetti nel territorio ferrarese. Presentati in Coltiretti, in via Bologna Ferrara, i risultati delle ultime sperimentazioni dedicate al ciclo di sviluppo delle infezioni in relazione all'andamento ambientale e anche i fenomeni di resistenza ai principali principi attivi attualmente impiegati che non paiono in grado di risolvere il problema forse anche per cause legate all'andamento climatico. È una vera e propria calamità, evidenza il presidente di Coltiretti Ferrara Floriano Tassinari e stiamo cercando di far capire alla regione che abbiamo già interpellato la necessità di interventi concreti e veloci per sostenere le aziende, in particolare quelle ferraresi, dove il problema appare più marcato, continua il presidente. Sugli agricoltori ferrarese, infatti, graverebbe un calo generalizzato dei frutti presenti sulle piante, dice Coltiretti, e poi gli attacchi di cimice asiatica, le infezioni di alternaria e fenomeni atmosferici che indeboliscono la fisiologia delle piante. Il prossimo incontro con i frutticoltori di Coltiretti è in programma lunedì dopo Ferragosto, il 19 agosto alle ore 21, sempre nella sala conferenze della sede provinciale in Via Bologna e sarà dedicato alla gestione dell'acqua nelle produzioni frutticole. Una bella notizia adesso, come vedete nella foto, si tratta di un sollevatore elettrico utile per l'ingresso nelle piscine dove si realizzano interventi di idropet therapy con i cani anche per tutte quelle persone in carrozzina con problematiche di deambulazione. E' questo l'oggetto molto particolare ricevuto dall'associazione Chiaramilla che grazie alla collaborazione con l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Ferrara avrà appunto in dotazione questo sollevatore, un contributo che rappresenta oggi solo l'inizio di una più fattiva collaborazione tra Animic e Chiaramilla, scrive l'associazione Estense diversi infatti i progetti di pet therapy previsti nel territorio Estense per garantire appunto varie tipi di attività aperte a tutti. E adesso ci spostiamo a Cento, cambiamo argomento, parliamo dell'università, Cento appunto che è pronta ad aprirsi all'università di Ferrara. Cosa significa? Lo scopriamo in questo servizio, ovviamente sapete che le iscrizioni sono in aumento vista l'apertura dei corsi di studio e dell'aver tolto i test d'ingresso. La città di Cento dice presente ed è pronta ad aprirsi all'università di Ferrara in questa rilevante fase in cui le iscrizioni stanno velocemente aumentando. Da mesi l'amministrazione comunale sta lavorando a fare di Cento una città universitaria, afferme il sindaco Fabrizio Toselli. Abbiamo già individuato sedi idonee per ospitare lezioni o corsi che si vorranno già iniziare ad attivare e abbiamo anche predisposto un piano che consenta di mettere a disposizione nel medio periodo spazi e servizi per un'offerta accademica strutturata. Così dice il primo cittadino che conferma dunque la volontà di avviare una collaborazione con l'Ateneo Estense agevolata peraltro dalla collaborazione inaugurata con la nuova amministrazione di Ferrara. Basta osservare la nostra Cento per potervi facilmente individuare tutte le caratteristiche per diminuire un centro universitario spiega Toselli. Secondo il primo cittadino la città è per dimensioni e con formazione accogliente e vivibile per gli studenti. Vanterebbe poi un'ubicazione strategica baricentrica come è fra diverse province e potrebbe mettere a disposizione realtà particolarmente attrattive per i corsisti come l'ospedale o il polo sportivo. Un progetto ambizioso quindi lo definisce Toselli ma il cui disegno si va già chiaramente definendo adesso vedremo come si strutturerà concretamente questa possibilità che per cento dice il sindaco si tratterebbe di un traguardo di progresso e sviluppo. Ultime ore di tenda Summer School a Villa Mensa nel Copparese i giovani attori si stanno cimentando nell'arte del teatro e del cinema e con loro però ci sono anche alcuni educatori li conosciamo. Buongiorno a tutti da Villa Mensa dalla tenda Summer School dove ragazzi da tutto il mondo sono venuti per studiare commedio dell'arte andiamo a vedere come stanno procedendo le lezioni. mi trovo in compagnia con ben otto studenti della scuola di cinema di Varzavia dei Varsav Film School che sono qui a Villa Mensa a studiare commedia dell'arte. Ragazzi your name Veronica Matilda Maya Maria Dominika Sonia Lukasz Monica mi piace veramente tanto questa villa e anche l'Italia gli italiani siete i migliori quali parole hai imparato in italiano? mamma mia pizzeria pasta buongiorno mi trovo in compagnia del preside della scuola di film di Varzavia la Varsav Film School Piotr Lukoski e dell'insegnante di inglese della Varsav Film School Paver Gnaciuk la Varsav Film School è partner culturale dell'evento della tenda Summer School come mai avete deciso di portare ben otto dei vostri studenti qui a studiare commedia dell'arte in Italia? abbiamo deciso di venire in Italia perché siamo stati invitati dagli organizzatori della tenda Summer School visto che l'anno scorso abbiamo avuto uno scambio di studenti noi abbiamo ospitato sei studenti italiani a Varzavia è stato veramente un successo e un bello scambio per entrambi quindi abbiamo deciso di partecipare alla tenda Summer School e portare qui i nostri studenti per conoscere una nuova cultura conoscere un nuovo posto nuove persone e imparare cose nuove da voi italiani per oggi è tutto noi vi salutiamo con i ragazzi della Polonia e ci vediamo domani ciao ciao torniamo adesso in città che pian piano si sta svuotando ma sono tanti i ferraresi che nella settimana di Ferragosto rimarranno appunto a Ferrara sono anche tanti i turisti che stanno godendo delle bellezze della città e dalla prossima settimana saranno anche tante le iniziative che caratterizzeranno il capodanno dell'estate una di queste è l'apertura gratuita del museo di casa Romei i due giorni prima di Ferragosto il 13 e il 14 e anche il 15 agosto un'apertura che avverrà nell'ambito dell'iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali denominato io vado al museo gli orari ricordiamo restano invariati ma l'ingresso appunto sarà gratuito per tutti e adesso torniamo alla SPAL però dobbiamo partire da una brutta notizia lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro questo il risultato degli esami a cui si è sottoposto Fares esterno sinistro della squadra di semplici esami appunto che avrebbero dato esiti negativi tutt'altro che confortanti a breve Fares sarà operato dopo l'infortunio subito nell'amichevole con il Cesena e la SPAL che considerando anche la cessione di Lazzari si ritroverebbe così ad iniziare la stagione priva dei due esterni sui quali semplici aveva basato il proprio gioco durante lo scorso campionato verranno sostituiti da Di Francesco e da Alessandro e forse da altri innestri che arriveranno dal mercato ma parliamo ancora di SPAL perché dopo il dissequestro e questa brutta notizia che riguarda l'esterno Mancino Fares andiamo di nuovo in campo dove i biancozzurri continuano nel cammino di preparazione in vista delle prossime sfide dopo la vittoria di due giorni fa a Cesena dove appunto si infortunò Fares Alessandro Sorrani a fine partita ha intervistato Cionec uno dei difensori che in questa pre-season stanno facendo diciamo così gli straordinari Diego voi difensori ultimamente state facendo un po' gli straordinari siete contati sì veramente oggi è stato terza volta 90 minuti in una settimana dopo un ritiro pesante a Valles però bene sono riuscito a giocare Igor Vicari poi è entrato pure Vaisane siamo contati però anche questo è importante per prepararci sappiamo che siamo ancora in preparazione manca qualche giorno per i campionati cerchiamo di arrivare alla forma giusta nel primo tempo modulo un po' nuovo per noi questo 3-4-3 come vi siete trovati che impressione hai avuto sì sì adesso conti Francesco e Marco sono giocatori che fanno benissimo tranne linea mister sta provando pure in allenamento cercare qualche opzione perché è importante avere questa elettricità durante il campionato abbiamo fatto il primo tempo così poi il secondo tempo siamo tornati al nostro solito 3-5-2 alle spalle avete Berisha come vi state trovando sta crescendo l'intesa quanto è importante poter contare su un portiere così come è stato l'altro canto l'anno scorso nel giro di ritorno Viviano con tutta questa esperienza sì è un giocatore esperto anche a livello internazionale è arrivato qua si è inserito benissimo un bravo ragazzo noi lì dietro come reparto cerchiamo di lutarlo a fare capire velocemente in modo di giocare ma lui sicuramente sta ogni giorno migliorando e sarà importantissimo per noi quando inizierà il campionato sarà però indispensabile evitare certe distrazioni perché oggi qualche leggerezza l'avete commessa specialmente ad esempio in occasione del primo gol del Cesena sì dopo tanto tempo che marcava una zona stiamo provando anche questa situazione di marcare a uomo la palla andata su primo palo una palla difficile ha preso benissimo ma sicuramente sono due gol che abbiamo preso evitabili anche dopo un rischio ottantesimo però è giusto anche in amichevole provare certe situazioni per non trovarsi impreparate il campionato due settimane poi si inizia a fare sul serio con in mezzo anche il match di Coppa che tutti ci auguriamo possa essere giocato a Ferrara sì speriamo questo è un altro discorso però la società sta facendo il possibile sicuramente per chi giochiamo già dall'inizio a partire Coppa Italia in casa sarebbe importantissimo per noi però noi cerchiamo di prepararci nel miglior modo possibile e già la prossima settimana iniziamo a fare sul serio bene con questo è tutto non mi resta che ricordarvi telestense.it e i profili social per rimanere aggiornati su tutto quello che accade a Ferrara e in provincia io invece vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale di Telestense grazie a tutti Grazie a tutti.